Radio DJ, un giorno da DJ, ne ho altri due, tutti uomini stamattina! E via, e via, carne al macello! Carne al macello, buttiamoli lì, donne, donne, abbiamo altri due bei giovani, 30 anni, di Alessandria, ma lavora a Forlì, Angelo Cattaneo. Eccola qua, buongiorno Laura, ciao! Buongiorno, come stai? Ah bene, direttamente... Sai che ti dona la maglietta di Radio DJ, devo dire, hai un fisichino. Questa t-shirt di Radio DJ mi fa finalmente l'addominale. Sì, le tette. L'addominale è il pettorale. Ragazzo mio, Angelo, perché sei andato lì a vivere? Perché sono un amante delle piadine, vuoi metterla a Romagna? Anzi, saluto tutta la Romagna, sono stato anche in Puglia, ma la mia domanda è questa. A quest'ora del mattino, 7.42 minuti del mattino, con questa temperatura, con Milano messa così, Linus dov'è? Invece Angelo fa il quiz in televisione. Ti prego un esempio di quiz in televisione e racconta. Un esempio di quiz? Sì, sì, dai, racconta il tuo quiz, come si intitola? Allora, intanto si chiama Papillon, va in onda su un emittente, si chiama Videoregione in tutta la Romagna, e va in onda quattro giorni alla settimana, ed è una sorta di chi vuole essere un milionario. Allora, noi dobbiamo fermarci, però ti prego, cantaci almeno il Coccodrillo come fa per fermarci. E il Coccodrillo come fa? 7.57 Radio DJ, allora li dovevo salutare purtroppo velocissimamente, ma loro sono già copia di fatto nel frattempo. Sì, sapete per quel motivo? Siamo già in ritardo. Ciao! Un giorno da DJ Ciao!